Colonello, ho avvistato la setta che mi aveva chiesto di cercare. Ora li tolgo di mezzo. Molto bene, caporale. Tienimi aggiornato. Chiudo. Rimugnanti, i miei cazzo di preferiti. Ma che c'è? La situazione era rovente ed aerobiotto. Mi ha preso! Non so, vedi, sono... È scesa! Vi riconoscete, strozzi? Forza, vedi. Ok, andate. Andate a sud per ricominciare da capo! No, no, non se ne parla! Dov'è il vostro capo? Dov'è Carlos? Ah, giusto, è morto! L'ho ucciso io! Avete capito? Io! Cazzo! 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 Oh, no! Spermati, cosa estremo in cammino? Gli sbarriti! Facciamolo a pezzi! L'ho ucciso! Brucerai! Sì, brucia! Spermati! E anche voi finirete in pasto i furiosi. Sono finiti. Un maledetto ripugnante. Un maledetto ripugnante.